carissimi amici e amiche bentornati nuova puntata del ciclo di catechesi sottile della mata siamo giunti credo alla tredicesima dovrebbe essere non sono sicuro non ho controllato questa sera vedremo andremo avanti forse la dodicesima andremo avanti ancora questa sera nel nostro viaggio proseguendo la nostra contemplazione dei nostri due amici che si trovano indietro nel tempo rispetto alla dimensione ordinaria quindi alla quarta dimensione andando a fare un piccolo viaggetto nella quinta dimensione nell'eternità creata riprendiamo da dove ci siamo lasciati la volta scorsa è stata una puntata forse un po' non lo so forse per qualcuno potrebbe sembrare un pochino pesantuccia perché è stata una puntata diciamo di transizione molto molto importante però per comprendere la realtà della quinta dimensione perché se non si comprende questa realtà non si va avanti non si capisce niente di quello che che si dice in seguito perché uno dei punti capisaldi proprio della rivelazione di questa rivelazione è proprio l'esistenza di questa quinta dimensione che ulteriormente sarà approfondita adesso immediatamente in quello che andremo a leggere adesso capitolo è molto ampio non so se riusciremo a leggere tutto io comunque comincio quando poi è opportuno faccio qualche pausa come al solito per qualche commento e proseguiamo il nostro viaggio Tenera Amata ed io continuavamo in piedi di fronte alla finestra della casa delle signorine Campos un silenzio di pace pervadeva l'ambiente con curiosità guardavo il mio corpo infantile senza comprendere totalmente il prodigio ora parla Tenera Amata considerando l'organismo umano dalla prospettiva del momento attuale del tempo non dalla quinta dimensione esso si rinnova incessantemente mediante l'assimilazione esso incorpora continuamente nuova materia che acquista vita e con l'eliminazione elimina materia che ravviva poco prima i corpi umani cambiano incessantemente in modo che ogni 7-8 anni più o meno quasi tutte le molemocole chimiche del viatore si rinnovano pensa allora che tu stesso nel corso della tua vita hai cambiato di corpo materiale 7-8 volte tuttavia la tua anima spirituale libera ed immortale continua ad essere sempre la stessa ebbene affinché tu possa ammirare meglio la grandezza della tua anima eterna osserva che il tuo spirito nel renderti testimonianza del tuo incessante io personale continua ad essere la tua unica anima indivisibile insostituibile senza parte i componenti essa attenzione a queste espressioni è la forma sostanziale del tuo organismo totale se non capiamo questo passaggio non capiremo poi niente soprattutto non capiremo una cosa apparentemente sconvolgente di queste liberazioni ma che se si capisce questo sconvolgente non è affatto ripeto essa è la forma sostanziale del tuo organismo totale cioè di tutti i tuoi corpi materiali fin dallo stadio di cellula uovo ma non devi supporre che ciò che è accaduto al tuo corpo integrale attenzione a questi concetti è corpo integrale per il fatto di essere già accaduto sia svanito sia definitivamente finito non credere che i tuoi cambiamenti corporali siccome appartengono al tempo passato siano stati annientati no attenzione perché nella realtà oggettiva non sono avvenuti ma stanno avvenendo sono in esistenza nell'ambito dell'eternità creata o quinta dimensione leggo un altro passaggio e poi facciamo tutto quanto uno stop congiunto dunque io possiedo una sola anima spirituale ma con sette o otto corpi diversi risponde tenera amata nell'eterna realtà oggettiva hai un solo corpo integrale il quale un po' per volta ha preso diverse sembianze stature complessioni materie ed energie ma i tuoi sette corpi perdurano intatti per sempre nel passato del tempo terrestre o quinta dimensione è meraviglioso allora qui ci sono dei concetti che dobbiamo focalizzare allora alcuni sono empirici se noi guardiamo le cose dall'ambito della nostra dimensione penso che questi sono sono dati oggi scientificamente acquisiti abbiamo un processo quando ci alimentiamo il nostro organismo poi vedremo chi è che che presiede a queste funzioni scompone il cibo lo trasforma in 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 energia quindi viene il processo di assimilazione e al tempo stesso sono in continuazione stiamo facendo dei processi di eliminazione di materia quelli fisiologici e anche quegli altri di tipo comunque fisiologico organico tipo per esempio uno tra i tanti è la sudorazione questi processi comportano una assunzione di materia che prima non c'era e di espulsione eliminazione di materia che prima c'era e attraverso il procedere in continuazione di queste di queste di queste attività si determina un rinnovamento delle cellule e la scienza ha purato la scienza vera non quella con l'h ha purato che diciamo se io sono arrivato a 50 a 50 anni ogni 7 8 anni c'è un rinnovamento integrale quindi 7x7 fa 49 le mie cellule sono la settima tornata chiaro e tanto è vero che a un certo punto però sta attento l'anima tua è sempre stata la stessa ma attenzione qui bisogna per capire la sottigliezza bisogna capire la definizione che di anima diede sant'ommaso e che la chiesa ha fatto proprio fatto proprie sant'ommaso disse che l'anima è la forma del corpo dire la forma del corpo vuol dire che con il corpo forma un tutt'uno è di per sé inscindibile e in effetti la morte sotto questo punto di vista quindi rappresenta proprio una una cosa assolutamente innaturale contro la natura perché l'anima è stata fatta per stare insieme al corpo noi non siamo angeli attenzione però ai tempi di sant'ommaso tutte queste cose non si sapevano adesso sì quindi l'anima non è la forma semplicemente di un corpo perché tu non hai avuto cioè se dopo sette anni ti cambiano tutte quante le cellule tutte di tutti gli organi sono tutte rinnovate non si può dire che il tuo corpo è lo stesso stando in questa definizione quindi c'è avuto 1 2 3 4 5 6 7 questo vale evidentemente nella dimensione del tempo l'anima attenzione per questo la chiama la forma sostanziale definizione atomista ma non semplicemente del corpo del tuo organismo totale cioè di tutti i tuoi corpi materiali fin dallo stadio di cellula uomo perché dirò che questo è importantissimo perché con la morte tutti quanti dicono avviene la separazione dell'anima dal corpo avviene la separazione dell'anima dall'ultimo stadio del corpo cioè da quello che immediatamente con la cessazione del battito cardiaco diventa cadavere ma se uno capisce queste cose da tutte quante le fasi precedenti l'anima non si stacca ma come niente perché nell'eternità creata nell'eternità creata spiega i cambiamenti non sono avvenuti sono tutti quanti in atto di avvenire sono in esistenza perché la legge dell'eternità creata è semplicemente l'essere questo concetto deve essere chiaro deve essere altrimenti proprio non credere che i tuoi cambiamenti corporali siccome appartengono al tempo passato siano annientati quello che sta vedendo Riccardo lì è il suo essere bambino e lui lo vede come una cosa in atto cioè non è che sta vedendo un film cioè vedremo poi che cosa succede a un certo punto cioè sta vedendo una realtà che c'è noi adesso non la possiamo conoscere perché perché siamo legati con uno schiavo a catena visto la volta scorsa all'istante che passa ma il mio organismo di bambino il mio e il tuo ora nell'eternità creata è semplicemente non ha cessato di esistere è che fino a quando io sto nello stato temporale della quarta dimensione sono viatore soggetto tra l'altro a peccato originale e legato a catena all'istante attuale non lo posso percepire ricordate l'esempio dell'altra volta il treno e l'aereo se vado sul treno dice se vado sul treno che me ne porta della dimensione altezza al treno non serve la dimensione altezza eh ma se tu vai sull'aereo dopo l'altezza la conosci no? riprendo quindi attenzione un solo corpo integrale che ha preso diverse sembianze stature complessioni materie ed energie ma i tuoi sette corpi perdurano intatti per sempre nel passato del tempo terrestre o quinta dimensione riprendo è meraviglioso bene se i tuoi sette corpi si contemplassero dal piano dell'eternità creata non da dal mio attuale punto di vista si vedrebbe un solo organismo totale allo stesso modo di come i sette colori dell'iride si unificano attraverso il colore bianco mediante il disco di Newton adesso per chi non sapesse tante cose provi a fare un giochetto d'accordo perché queste cose si possono in parte la luce se io ho una lampada qua davanti questa luce qui provo a girarla se gira vediamo ecco la si vede come bianca no? ordinariamente ma la luce non è bianca perché se io prendo un pezzo di vetro anche un bicchiere normale meglio ancora un prisma e lo metto davanti alla luce e lo guardo io vedo la luce scomposta perché la luce è composta dai sette colori dell'iride non è bianca è l'insieme di questi sette colori colti dal mio occhio attuale che me la fa vedere bianca se tu c'è il disco di Newton che è lo strumento migliore per fare questo lavoro lo vedi proprio perfettamente ma se tu osservassi attraverso il prisma del tempo il tuo unico corpo integrale a modo di un fascio di luce bianca subirebbe una rifrazione dando appunto i sette colori dei tuoi sette corpi differenti e l'interminabile gamma di sfumature che corrispondono ai tuoi atti di esistenza e agli spazi tempi che li conservano i miei atti di bambino sono conservati negli spazi tempi del 74 75 76 d'accordo? com'è possibile che io non sia cosciente di possedere sette o otto corpi materiali differenti? Terramata dice in parte sì che te ne rendi conto tu ricordi te stesso bambino ricordi adolescente giovane adulto te ne sei accorto dei tuoi cambiamenti fisici di peso di statura e in parte no quindi quindi lei dice se tu ripensi e ricordi lo sai che c'è avuto però ti sembrano cose che sono passate riprendo la lettura in parte no perché la tua coscienza è incatenata al presente momento di esistenza vedi sempre solo l'ultima carta in questo paratempo siccome stiamo visitando il passato contempli il tuo corpo di bambino esistente e vivo come vivo ed esistente sei tutto te stesso nel magazzino della quinta dimensione dice vorrei comprendere bene tutto questo dice Riccardo è una parola che risponderei lo comprenderai bene quando lo vivrai nel cielo ecco qui vorrei subito fare una cosa sapeste quante volte mi imbatto che poi a volte purtroppo in domande fatte via mail fatte anche di tante questioni ma che che ne so che cosa ne possiamo sapere noi non abbiamo una conoscenza una comprensione una comprensione perfetta di queste cose tutte le cose che riguardano la fede queste realtà hanno una conoscenza dice San Paolo imperfetta confusa non chiara tu cogli qualche aspetto ma non puoi comprenderlo bene perché qui non si possono comprendere certe cose cioè noi non possiamo avere una perfetta conoscenza né fare un perfetto discernimento è la nostra condizione impossibile fino a quando siamo qui questo non vuol dire che non si abbia una conoscenza vera una conoscenza vera però dinanzi alla quale tu devi avere un'umiltà di non pretendere di capire bene tutto perché se pretendi di capire bene tutto diventi atico per forza perché non lo puoi capire bene tutto allora lo comprenderai quando lo vivrai nel cielo per adesso non dimenticare che ogni essere per il solo fatto di essere vedete qui fa riferimento a alti principi della metafisica è uno vero buono ed è bello sono i quattro classici e grandi valori ebbene aggiungi adesso il quinto valore ogni essere è eterno anche qui mi devo un attimo fermare allora perché qui si spazia dalla scienza alla metafisica la metafisica per chi non lo sapesse è una branca la più nobile della filosofia allora secondo Aristotele e anche secondo San Tommaso i trascendentali dell'essere si chiamano così perdonatemi le parolacce cioè gli attributi che ogni ente ha semplicemente per il fatto di essere sono tre guardatemi ogni essere in quanto ente è uno io sono uno questo telefono è uno questi occhiali sono uno ok ma secondo trascendentale questo essere la mia persona il telefono e gli occhiali sono cose buone perché per il fatto stesso di esistere sono cose buone cioè una cosa in quanto è sempre buona non è in se stessa cattiva mai e ogni ente in quanto ente è vero cioè non si può dire che questa cosa non esiste quindi è vero è vero è vero e sono vero ecco questi trascendentali erano accettati da tutti in filosofia qualche altra scuola filosofica specialmente quella di di matrice agostiniano francescana ha aggiunto un quarto trascendentale dell'essere che qui te ne ramata dà per acquisito che è o niente in quanto è è bello verissimo è bello è bello perché porta in sé qualcosa un barlume anche minimo dell'infinita bellezza di Dio evidentemente queste cose sono vere al massimo grado possibile in Dio però in Dio sono presenti per antonomasia Dio non è semplicemente vero ma Dio è la verità Dio non è semplicemente buono ma Dio è la bontà Dio non è semplicemente bello ma è la bellezza Dio non è semplicemente uno ma è suprema unità nella Trinità tra l'altro come noi sappiamo come ci ha rivelato quindi capite no? in Dio questi trascendentali diciamo così si trovano non come trascendentali dell'essere ma si trovano proprio per nell'essenza stessa perché in Dio essere e l'essenza coincidono però non vorrei adesso farla troppo complicata rimaniamo rimaniamo qui ora dice aggiungi a questi quattro trascendentali un quinto ogni ente in quanto ente è eterno cioè non può cessare di essere e attenzione non soltanto nel fatto che non morirà mai ma anche nel fatto che da quando è da quando è stato creato è ha conservato tutto ciò che è e che è stato e tutto ciò che è che è stato semplicemente si conserva c'è e Riccardo esclama ah questa sì che è una novità che mi hai rivelato e anche qui te ne l'amata obietta no già lo sapevi sto leggendo nella tua mente le leggi fondamentali della scienza che hai imparato leggeramente te ne l'amata niente si crea e niente si distrugge e tutto si trasforma questo è vero questo qui eh di nuovo penso che più o meno sappiamo che queste cose anche attraverso la mia memoria risalgono ad Albert Einstein ti mancava chiarire soltanto che le trasformazioni avvengono nel momento presente ma dopo che sono avvenute perdurano senza fine nell'eternità creata come vedi la legge della conservazione della materia energia questa niente si crea niente si distrugge tutto si trasforma questa è la legge di della conservazione della materia energia ti sta svelando il mistero della quinta dimensione in questo paratempo tu stai vedendo il tuo corpo di bambino immobile ma vivo tuttavia attenzione a questo passaggio come viatore e lui lo è sta vivendo un'esperienza straordinaria nessuno di noi può vivere una cosa del genere senza un intervento straordinario divino non saresti capace di sopportare la visione dei tuoi corpi o meglio del tuo corpo globale muovendosi nel corso ordinario del tempo terrestre tu puoi immaginare e contemplare i tuoi sette corpi in piena attuazione l'osservare te stesso in una superintospensione al tempo stesso soggettiva e oggettiva cioè che cosa significa questo qui cioè io sono 50 anni posso immaginarmi che in contemporanea si attua il mio essere infante bambino adolescente giovane adulto e uomo maturo in contemporanea no no non è possibile farlo fino a quando sono viatore non si può fare sarebbe meraviglioso dice Riccardo contemplare tutti i miei corpi attuandoli tutti contemporaneamente ha capito non potrei vederli abbi pazienza soltanto quelli che sono glorificati liberi dal legame della coscienza col momento presente possono godere queste meraviglie capite qual è la condizione dell'assenza di gloria che cosa sta dicendo il nostro essere legati noi non possiamo sfuggire dall'istante presente sapete quante quante persone come dire stanno soffrendo per tante situazioni che viviamo a livello personale a livello sociale politico economico ecclesiale sappiamo che la Madonna Fatima ha detto alla fine il mio cuore immacolato triunferà ma lo sappiamo ma noi non possiamo fare un jump e andarcene avanti di di 30 anni attenzione anche se nell'eternità creata o meglio nell'eternità increata di Dio già è il trionfo del cuore immacolato di Maria ma per noi no perché noi stiamo qui in questa dimensione adesso ed è volontà di Dio che viviamo così in questa dimensione a causa delle conseguenze del peccato originale i diversi stati riprendo la lettura di sviluppo corporale in qualunque spazio tempo delle sue fasi evolutive terrestri e celesti possono essere glorificati dall'anima in un determinato momento dall'anima chiaramente che si trova già sganciata dall'essere viatore è molto divertente goderne in cielo adesso cominciamo a vedere un pochino che cosa significa io lo posso fare appena in sette stadi a causa del mio piccolo grado di gloria ogni tanto quando tenera amata dice a causa del mio piccolo grado di gloria cerchiamo di fare qualche considerazione perché io mi sfiato perdonatemi il termine in continuazione ad esortare le persone dico amico mio state attento stati cioè pensaci tu con questi 4 anni perché sono 4 anni pure se fossero 100 di questa vita ma tu ti giochi l'eternità ti giochi una beatitudine che potrebbe essere molto molto più grande i santi tutti lo hanno raccontato non ci vorrebbero mai tornare sulla terra mai sono mica matti salvo che qualcuno dice noi ci tornerei per fare qualche altra opera santa qualche altra penitenza così avrei un grado di gloria maggiore unico motivo che gli fa tornare il desiderio di tornare sulla terra fino a quando noi ce lo possiamo facciamo attenzione allora io posso farlo soltanto in sette stati a caso del mio piccolo grado di gloria e riesco a vivere a sentirmi bambina sentite fanciulla fanciulla adolescente fidanzata sposina madre e nonna sono sette ma mi è fattibile fare molte altre combinazioni noi cambiamo le nostre fasi corporali noi beati come voi cambiate vestito nella patria disponiamo di moltissimi aspetti fisici tu potrai essere e sentirti giovane nella gloria attenzione non sarai come un eterno ritratto fermiamoci un attimo prendete questa cosa e applichiamola per esempio alle apparizioni mariane che la gente rimane sconvolta dice allora a meggiungore la madonna dice che c'aveva i capelli castani e gli occhi chiari che ne so è apparso come una ragazza di vent'anni a Guadalupe è apparso come una meticcia e a Danguera dice che c'ha capelli neri e gli occhi azzurri allora non è la stessa madonna alla Salette era apparsa come una donna matura che piangeva amici miei per i beati queste cose qui sono giochi da ragazzi cioè è come se tu ti cambi un vestito non abbiamo un eterno ritratto è monotono eh no c'è molta gente che dice anche anche Sant'Ommaso non conoscendo queste cose dice come saranno i corpi dei glorificati ma i corpi dei glorificati saranno tutti quanti 33 anni come nostro Signore Gesù Cristo bella questa cosa qui però è anche un pochino monotona sicuramente ci sarà noi possiamo assumere le forme corporali che vogliamo nella misura in cui a seconda del grado di gloria che abbiamo raggiunto però perché vedremo che molti gradi di gloria alti gradi di gloria non ne parliamo che manicomio in senso buono che succede un'altra volta quando ti descriverò un po' la sesta dimensione io l'ho letto cinque o sei volte devo ancora capire bene che cos'è questa sesta dimensione credo che sia l'eternità increata però non sono tanto sicuro potrà intravedere il prodigio che realizzano i glorificati molto preminenti quelli che stanno molto in alto sono in grado attenzione proviamo ad immaginarlo ma non possiamo capirlo sono in grado di vestirsi con tutte le loro fasi corporali nello stesso tempo in un unico atto di coscienza ma vi rendete conto tutte le fasi corporali nello stesso tempo in un medesimo atto di coscienza cioè in un medesimo atto di coscienza i grandi beati possono essere bambino fanciulla adolescente fidanzato sposino madre e nonno e chi non è stato fidanzato e sposino cioè io sono stato fidanzato quando ero più giovane ma non sposino perché ragazzi ci sarà qualche altra cosa che cosa significa partecipano analogicamente della ubiquità divina cioè del fatto che Dio può essere contemporaneamente tutto e dovunque voi capite cosa significa che chi è Dio una delle caratteristiche di Dio è l'immensità no? qui la chiamo l'ubiquità come come si si enuncia l'immensità vedete perché era meglio rimanere al Catechismo dell'Esempio X faccio consigli per gli acquisti nel Catechismo dell'Esempio X non parlate di queste cose proprio all'inizio perché il Catechismo dell'Esempio X comincia proprio così descrivendo i quattro attributi divini che sono quelli suoi che sono l'eternità l'immensità l'onniscienza e l'onnipotenza in base all'immensità Dio è in cielo in terra in ogni luogo è tutto e dappertutto in contemporanea per Dio non esiste spazio e tempo cioè è tutto e dappertutto lui è qui adesso ascolta benissimo quello che io sto dicendo speriamo bene che va tutto bene ma lui si trova in contemporanea in chissà quale altra galassia che noi non sappiamo neanche che esiste di tutto quello che ha combinato in tutto l'universo perché il nostro Signore l'ha combinato tante in giro ma un beato inferiore ecco qui vuoi 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 trascorrere la vita a perdere tempo con le bagattelle mondane quindi a non crescere in santità in grazia ha messo soltanto la domenica ha messo che già mezzo miracolo che oggi che c'era perché dopo ti dovesse far male andarci un po' di più fai ma sappi che questo c'errà delle conseguenze ah ma io in paradiso c'è vado lo stesso ma certo che c'è vado lo stesso basta che osservi dieci comandamenti però c'è l'ingrote proprio a basso e ti divertirai di meno se c'è l'ingrote di più basso detto proprio in godrai molto di meno un beato inferiore vi prendo la lettura dispone di pochi involuqui corporali contemporaneamente pertanto fai il proposito di raggiungere con le tue buone opere terrene un alto grado di gloria futura e non perdiamo tempo perché non sappiamo quanto tempo ci abbiamo voi pensate le imbecillità che si dicono adesso che adesso quando penso a queste cose dopo mi infervoro ma lo sapete ma perché a me dispiace pensate se una se una persona andando dietro alle alle ai mantra attuali alla misericordia la misericordia la misericordia quando uno muore tutti quanti in paradiso perché di misericordioso qualunque cosa tu abbia fatto se uno ci crede a questa cosa qui parte il fatto che rischia di non andarci in paradiso perché misericordia e misericordia ma per esempio non gli verrà in mente dico ma guarda che io mi devo cioè se io faccio un'opera buona in più o in meno non è la stessa cosa qui e dopo tutti quanti gli esseri umani sono tutti quanti impegnati ma io lo dico sempre l'ho già detto in altre non ti stai tu a preoccupare adesso della pensione e quindi di mettere da parte i soldi perché dopo quando non lavori più se te pia un coccolone che fai ma scusa ma non sarà anche saggio accumulare e mettere da parte per qualche cosa di più importante per la vita eterna per la gloria per la beatitudine forse sì no riprende a parlare Riccardo è portentoso l'organismo umano integrale ma già glorificato poiché in questa vita non disponiamo nemmeno di un altro corpo di scorta a modo di vestito per cambiarci questo c'è adesso e questo tengo adesso non posso tornare a vent'anni quando c'avevo tutti i riccioletti neri tanti capelli di più tanto per dire per fare una battuta non lo posso fare tuttavia vedete Riccardo continua a esprimere le sue umane titubanze i suoi umani dubbi non c'è confusione psicologica in questa molteggia esperienza di vita ed ecco che Terramata fa riferimento a un nuovo concetto tolto da Sant'Ommaso d'Aquino perché Sant'Ommaso d'Aquino ci ha visto bene su tante cose sentiamo no perché la capacità intellettuale del beato è enorme certo se tu adesso con la capoccia che con la capocetta che c'è adesso ti dovessi ritrovare in contemporanea ad attuare sette corpi diversi della tua sette stati diversi del tuo organismo corporeo della tua esistenza andresti un po' al manicomio andresti come la faccio a gestire questa cosa qui entro in confusione psicologica adesso ma tu non puoi paragonare l'intelligenza che c'hai adesso a quella che c'era in cielo la capacità intellettuale del beato è enorme pensate per esempio che in cielo si parlano una caterva di lingue senza averle studiare chi studia le lingue insomma io qualcuno ne sto studiando ma vedi la fatica che si fa enorme per impararti qualche cosetta non ti dico poi quando la devi perfezionare che c'hai qualche aspirazione al bilinguismo fatica enorme in cielo non c'è nessuna fatica nessuna la luce della gloria ecco il concetto atomistico lumen gloria il lume della gloria e il dominio sulla sesta dimensione ci rendono capaci di godere simultaneamente attenzione al termine simultaneamente questo questa parola è una parola divina perché il simultaneo non è che noi cioè guardate che noi simultaneamente sulla terra non siamo buoni a fare quasi niente possiamo fare al massimo un paio di cose insieme ma già quando stiamo facendo un paio di cose insieme l'attenzione è labile ma non è che possiamo farne dieci cose insieme in cielo non funziona così il dominio sulla sesta dimensione ci rendono capaci di godere simultaneamente di mille meraviglie ma vogliamo fare una prova vi siete mai chiesto vi siete mai chiesti facciamo sempre funzionare il nostro cervelletto no? ma avete idea di quanti tabernacoli ci possano essere nel mondo? vabbè qui entriamo nel mondo di Dio quanti? e voi sapete che in ogni tabernacolo c'è Gesù Gesù e qualunque persona va dinanzi a quel tabernacolo sta a contatto con Gesù e Gesù e Gesù si occupa di quella persona in quel tabernacolo proprio davanti a quel tabernacolo ma proprio di lei ma proprio di lei e in quanti posti lo sta facendo non ti viene la domanda ma come fa? certo che non possiamo sapere come fa è una domanda spontanea un beato entra nel mondo di Dio e comincia ad avere questa capacità della simultaneità che noi qui non possiamo capire possiamo dire mamma mia io andrei al manicomio certo che andresti al manicomio se lo facessi adesso e negli atti celesti attenzione non si ostacolano gli spazi e i tempi delle fasi di sviluppo corporale per esempio come nella conversazione la tua coscienza è attenta ad essa e si dimentica del dito mignolo così il beato nel godere un'esperienza celeste di amore giovanile non è cosciente delle sue tappe infantili ma tutte le fasi di sviluppo del corpo perdurano vive ed integre nello stupendo archivio del tempo passato e si possono attuare in onde temporali molto diverse adesso questa è un'altra cosa ancora perché una volta che è stato fatto l'atto di esistenza attenzione è possibile è fattibile ubicarlo in altri tempi e paratempi qui la nostra mente si perde ancora di più cioè l'atto è quello ma tu lo puoi una volta che entri nella quinta dimensione dell'eterità creata ubicarlo in un altro tempo o in un altro paratempo il dominio questo è il dominio che cioè è il dominio dei beati la partecipazione parziale dell'onnipotenza anche di Dio in conclusione qualunque cambiamento dell'uomo ascoltate bene questo è in grassetto nel testo originale qualsiasi fenomeno fisico chimico biologico sociale politico religioso perdura vivente senza fine nell'imponente archivio del tempo passato o quinta dimensione altro che i server di Google tutto si conserva fin anche il più leggero movimento tutto vedremo che poi c'è qualche piccola eccezione ma non devi però immaginare la quinta dimensione aggiunse nell'osservare la mia mente come uno scaffare di biblioteca o come un museo dove i tuoi corpi e tutto ciò che accade loro nel momento presente si conservano in recipienti con antibiotici no il cosmo funziona come un magazzino vivente e perdurevole l'universo consiste nell'esistenza perpetua di tutte le creature assolutamente tutte ricorda che lo spazio circola insieme col tempo adesso Riccardo fa un'altra obiezione ma tuttavia opposi grazie all'assimilazione viene incorporata nuova materia nell'organismo la quale sostituisce la materia eliminata quest'ultima quest'ultima si elimina come un'escrezione e io sto vedendo completo il mio corpo di bambino e te ne ho la malata spiega è che questa materia si elimina nel momento presente ma non prima mentre era materia viva considera che ogni spazio tempo conserva il fenomeno realizzato nell'istante che accadde la grande realtà oggettiva è differente dall'evidenza che a prima vista percepisci nel momento presente vedete quante volte sta cercando di inculcargli un concetto che in base all'evidenza attuale è assurdo ma guardate che tutte le verità di fede ancora San Tommaso d'Aquino sono tutte inevidenti proprio perché sono verità di fede in evidenti vuol dire che quello che ti sembra è contrario c'è gente che non crede nell'anima per esempio l'anima e chi l'ha mai vista dove sta io vedo il mio corpo posso 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 di disezionarlo posso studiare il cervello e lo studio del cervello capisco le funzioni anche le funzioni cerebrali anche i neuroni che quindi l'attività del pensiero a che serve l'anima dove sta l'anima dicono perché l'esistenza dell'anima che è una verità di fede ma non è immediatamente evidente se non ci crederebbero tutti o no allora per esempio spiegò notando le mie difficoltà nel comprendere le cellule dell'epidermine che morirono e si squamarono il martedì capite cosa sono le cellule dell'epidermine la nostra pelle sapete che se io già faccio così se io mi faccio una grattata ho ammazzato un sacco di cellule lo sappiamo questo qui quindi momogratto ecco le cellule che io adesso ho ammazzato ma fino a tre minuti fa prima che le ammazzassi grattandomi stavano sulla mia mano sentite tenere l'amato che cosa spiega le cellule dell'epidermine che morirono e si squamarono il martedì erano vive lunedì e così vive restano per sempre capite anche già quando un sacco di gente comincia a fare le mail perché non ha pazienza perché lì c'è il mio gattino che non si vede adesso qui che sta impiccato lì sopra la poltrona tutto contento a sentirsi la catechesi lui non sa che questo tempo che sta vivendo dentro questo ambiente dove gli è capitato di stare è la sua vita che non finirà mai cioè quel gattino arriverà il giorno in cui muore ma speriamo tra dieci anni tra quindici anni quest'arco di tempo temporale che lui sta vivendo è una creatura di Dio permane cioè questi quindici anni sono la sua vita eterna e lui tornerà cioè continuerà a vivere e io quando sarò morto tornerò e poi vedremo più avanti tenera amata come 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 spiega perché anche per lui grazie alla nostra attività di glorificati per lei che è una priminuccia ci saranno nell'eternità creata quindi quando anche lei uscirà con la morte da legame con l'istante attuale che vale pure per il gatto ci saranno ci saranno anche per lei dei godimenti particolari datigli da me però perché lei non è capace di prendere i doni divini della glorificazione direttamente perché non c'ha l'anima ma io sì vabbè non voglio anticipare quello che tenera amata poi spiegherà più avanti comunque le cellule dell'epidermine che morirono e si scuomarono il martedì erano vive lunedì e così vive restano per sempre siccome tutto perdura senza fine avviene che le cellule del lunedì e del martedì e quelle di tutta la vita perdurano eternamente vive osserva che gli atti di esistenza furono successivi non simultanei e perciò è possibile distinguerli e situarli secondo l'orologio e il calendario ma nella realtà oggettiva sentite come la chiama sempre la realtà oggettiva la materia energia biologia questo noi siamo materia energia biologia dell'essere umano esiste integralmente sebbene non nello stesso spazio-tempo ma in una serie innumerevoli di spazi-tempi successivi ti dicevo e questo ricordiamo questo è un altro concetto basilare sentite come che continua a parlare di spazi-tempi che il tempo distaccato dalle cose non ha una realtà oggettiva ogni istante si aduna alla materia energia di ogni essere corporeo affinché questo compie il suo atto di esistenza perciò l'essere la sua materia la sua energia il suo spazio e quel tale preciso momento di tempo formano un tutto inseparabile per esempio adesso io ho fatto un gesto ho gesticolato chi sente l'audio non non può vedere no per esempio ho ho stretto le mani nell'atto del gesticolare allora focalizziamo questo aspetto ho stretto le mani nell'atto del gesticolare adesso ho passato un pochino di tempo a che ora alle 22 e 25 magari e 12 secondi dell'anno 2022 quell'atto è stato fatto in quel momento è stato fatto è stato fatto sta lì adesso per me è già passato non lo posso riandare a chiappare più posso rifarlo questo gesto ma non posso chiappare quello che ho fatto due minuti fa ma cosa sta lì di conseguenza non voler separare una cosa dal suo tempo passato ogni corpo è costituito dalla somma dei suoi spazi e tempi che corrispondono agli atti di esistenza che ho compiuto sin da quando ebbe inizio la sua natura interviene Riccardo allora io esisto e sono una persona con un corpo totale costituito dall'insieme di innumerevoli atti di esistenza che ho realizzato in altrettanti spazi tempi il mio organismo è molteplice non solo perché è l'insieme dei miei stati di feto bambino adolescente adulto e anziano ma soprattutto perché sono la somma di un'infinità di atti vitali e ogni atto della mia esistenza conserva la materia l'energia lo spazio e il tempo in cui effettuare l'azione esistenziale il momento presente manifesta nient'altro un bilancio istantaneo del mio essere ah e se è così sono un gigante mostruoso in verità rispondete una amata sei un gigante nella realtà oggettiva ma non mostruoso perché i tuoi atti di esistenza ancora come anche gli spazi e tempi che li conservano furono successivi non simultanei le tue azioni del 31 luglio e quelle del 1 agosto persistono separate non avvennero in due giorni simultanei interviene Riccardi ora comincia a capire la similitudine del mazzo da gioco ciascun atto della mia esistenza è come una carta indistruttibile nell'enorme mazzo di carte della mia vita e a proposito di quello che ha detto prima che possono essere cambiati gli spazi tempi di collocazione tu un mazzo di carte lo puoi mischiare se tu mischi un mazzo di carte attenzione non è che l'asso di quadri se lo mischi diventa re di picche no rimane sempre asso di quadri ma se tu mischi cambia posizione all'interno del mazzo ecco l'immagine del mazzo di carte ora incomincio a capire la similitudine del mazzo di carte ciascun atto della mia esistenza è come una carta indistruttibile nell'enorme mazzo di carte della mia vita sì è così il tuo organismo integrale venne all'esistenza con una sola anima spirituale e una cellula uovo oi l'anima spirituale sta già nella cellula uovo e non ci sia nessuno stupore di questo qui perché l'anima spirituale essendo appunto spirituale può stare anche dentro un atomo chiaro? questo vale per gli abortisti a proposito che in Francia vogliono mettere nella costituzione il diritto all'aborto è tutto partito dalla Francia adesso le ultime follie devono farle in Francia in questo modo si costituì il tuo essere individuale allora inizia la riproduzione cellulare adesso sappiamo dalla genetica le famose celluletoti potenziali le cellule staminali di cui si parla tanto negli anni passati quelle che si che all'inizio sono potenzialmente capaci di specializzarsi in qualunque tipo di funzione biologico organica e poi mano a mano che si moltiplicano si vanno specializzando formano poi l'organismo allora inizia la riproduzione cellulare quindi acquistasti materia ed energia dalla mamma ovviamente fino a quando siamo stati nel grembo diventasti embrione e ti sviluppasti biologicamente ti organizzasti senza che la tua coscienza se ne accorgesse che qualcuno si ricordava quello che stava accadendo nel grembo della madre Gesù 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 sì ma noi no e nascesti dopo i processi vitali soprattutto l'assimilazione e l'eliminazione ti hanno fatto sostituire a poco a poco tutti i due atomi ma nonostante ciò questa sostituzione di materia e energia come quella di cellule e tessuti è puramente soggettiva proprio dello stato diviatore con la tua coscienza legata al momento presente e Riccardo dice no io credo che questa sostituzione sia molto oggettiva no rispondete l'amata è che tutto quanto succede tu lo giudichi in rapporto all'istante attuale nell'eternità oggettiva non esiste il catabolismo così come lo intende la biologia il catabolismo è il contrario del il catabolismo è il contrario del metabolismo quindi assimilazione e eliminazione la materia organica non si elimina definitivamente quindi il catabolismo eliminazione della materia organica non esiste nella realtà oggettiva perché la materia organica non si elimina definitivamente ti ho detto che ciò che tu elimini in un certo momento era cosa vivente e assimilata nel momento anteriore e che così vive e assimilata rimane per sempre poiché ogni atto di esistenza insieme col suo spazio e tempo perdura senza fine una volta che è stato realizzato ultima obiezione di Riccardo perché Riccardo è una persona intelligente pure uno scienziato e dice ma la escrezione dice lui è sommamente reale e oggettiva risponde sì ma corrisponde all'atto di esistenza dell'istante attuale nulla di più capite che significa l'escrizione non vorrei fare esempi insomma no non significa una perdita per l'organismo totale il rapporto all'eternità creata ma non il rapporto evidentemente al momento presente è falsa l'idea che la tua materia e energia sia più volte cambiata nel corso della tua vita questo cambio è un'illusione nell'eterna realtà oggettiva tu sei il medesimo in un processo di costante accumulazione e arricchimento ma tale ricchezza non si trova nel momento presente si trova nella quinta dimensione capisci bene e così concludiamo secondo la biologia che giudica ogni cosa dalla prospettiva del momento attuale la materia del tuo corpo è cambiata circa otto volte durante la tua vita ma dal punto di vista dell'eternità creata non hai fatto scambio ma accumulo di materia e energia nel tuo organismo integrale questi sono concetti amici miei tantissima roba chiaro che sono concetti amici miei purtroppo molta gente dice perché tante cose il nostro signore non ce le rivela ma perché se ce ne rivelasse troppo non saremmo in grado di stargli dietro di capirle già stare dietro a queste cose ci vuole non poco ci vuole perché molta gente mi dice sì te ne amate è bello c'è un sacco di passaggi bellissimi sono dei passaggi che sono molto complicati non si riescano a capire adesso non so se ho aiutato qualcuno a capirci un pochino qualcosa di più lo spero però questa è tanta roba questa qui ripercorriamo quello che ci possiamo il poco che ci possiamo immaginare noi ad esempio non possiamo immaginare il godimento che possa dare attuare simultaneamente spazi tempi differenti cosa che si può fare tranquillamente nell'eternità creata c'è tutta una serie di divertimenti che lei gli descrive io dico ma non riesco neanche a capire come possono accadere pazienta gli dice perché poi dall'altra parte non solo che capirai capirai vedrai e godrai quindi queste cose prendile come un flash di luce portati a casa tutto quello che riesci a capire ma la cosa più importante è l'esortazione che te ne ha cerca di cerca di crescere in santità perché più crescerei in santità più queste cose che comunque sono vere per tutte saranno più vere per te nel senso che potrai goderne con maggiore intensità e con maggiore profondità e con maggiore larghezza ampiezza e non è questa amici affatto la stessa cosa detto questo ci aggiorniamo alla prossima puntata e che Dio vi benedica e la Santa Vergine tutti e sempre vi protegga grazie